Nel mese di febbraio la Giunta Comunale di Pescia ha approvato alcune modifiche e integrazioni del canone comunale di concessione, in cui è compreso il canone patrimoniale sui passi carrabili. La motivazione, come si legge dalla delibera del Consiglio Comunale, per un adeguamento alle esigenze finanziarie dell'ente, in pratica per la necessità di incrementare le entrate, oltre che per equipararsi a quanto già praticato dalla provincia. Va detto anche che in Valdinievole solo i comuni di Uzzano, Piavanievole e Larciano non fanno pagare la tassa sui passi carrabili. Non va intanto la scelta di aver messo a Pescia il pagamento dei passi carrabili sulle strade comunali e sul suolo comunale che non era mai stato fatto. Noi siamo uno dei pochi comuni in Toscana che non veniva pagato i passi carrabili. Per esempio una persona anziana in una via qui a Pescia che ha un passo carrabile di 3,20 metri ha avuto 70 euro perché c'è una base fissa 40, moltiplicandolo per un coefficiente, in questo caso era 0,40, veniva a 16 euro e rotti a metro quadro, 3,20 metri, l'hanno arrotondata a 4 e ne è venuto fuori quasi 70 euro. Al di là del provvedimento citato, l'introduzione della tassa appunto, nel mese di aprile con una determina dirigenziale è stata affidata ad una ditta il servizio di rilevazione e censimento dei passi carrabili per un costo complessivo di poco meno di 20.000 euro. Operazione questa che secondo il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale Pesciacambia presenta alcune incongruenze. Invece che questo censimento metterlo a disposizione di tutti i cittadini e imprese per verificare se era esatto o non era esatto, quanti passi carrabili uno aveva o non aveva, se i passi carrabili erano carrabili con la macchina, pedonali eccetera eccetera, sono partite direttamente le cartelle. Quindi in agosto stanno arrivando alla gente, all'attività, le cartelle in un periodo di ferie dove viene scritto che entro 10 giorni devono pagare, ma la cosa ancora più secondo me grave è che se uno vuole chiedere informazioni perché non capisce dalla cartella che è illegibile, oppure vuole fare delle osservazioni deve chiamare il comune, prendere l'appuntamento e nei 10 giorni andare in comune. Io penso sia una cosa assurda e quindi questo non lo contestiamo. Quindi nel merito non si doveva far pagare i passi carrabili, due è il metodo usato perché per la prima volta facendo un censimento doveva essere condiviso con i cittadini, tenerlo sul sito per un mese o due, fare l'osservazione e verificarlo.